Buonasera, sono Adrian Nittleton, farò una serie di commenti alle letture dei discorsi di Churchill che farà Umberto Orsini. Dierò molto brevemente che lo scopo di questi commenti sarà, diciamo, duplice. Da una parte mi sento nel dovere di dare un po' di contesto sia per il personaggio Churchill, sia naturalmente anche per la situazione storica. In cui fece questi discorsi famosi e straordinari. Secondo scopo sarebbe di cercare di tirare fuori, non posso dire molto, ma tirare fuori quello che mi sembra il significato morale e politico in rapporto alla democrazia di questi discorsi. Erano discorsi per la più grande parte pronunciati durante la guella. Allora, per cominciare la mia introduzione, parlerò naturalmente oggi di Churchill come un campione della democrazia, come un campione della democrazia nel momento buio, forse, di tutta la storia europea moderna. In questo contesto è inevitabile che metterò in luce le grandi e positive qualità di Churchill, il coraggio e la determinazione. Ma non vorrei presentarvi un ritratto senza ombre, perché sarebbe evidentemente un'offesa alla verità. In realtà, alla vigilia della Seconda Guerra Mondiale, molti consideravano che la carriera politica di Churchill, nonostante il grande talento che gli era sempre riconosciuto, era stato un falimento. E peggio, il falimento era attribuito ai suoi difetti personali, come un'ambizione eccessivamente spregiudicata ed un modo di agire troppo impulsivo. Il leader conservatore Stanley Baldwin espresse l'opinione di molti quando disse che alla sua culla le fate portavano tante doti, l'immaginazione, l'eloquenza, l'abilità, ma una fata decretò che invece gli sarebbe negato il giudizio e la saggezza. Conviene dire poi che la sua grandezza come leader in tempo di guerra è legata ad un aspetto del suo carattere che adesso, a noi, oggi, può sembrare senz'altro inquietante. La guerra lo stimolava, lo eccitava. Anche se ha svolto altre importanti funzioni nei governi britannici e nel Parlamento, sentiva che dirigere alla guerra era il suo destino. In una conversazione del febbraio 1915, quindi durante la Prima Guerra Mondiale, soltanto recentemente rivelata in una pubblicazione, giunse addirittura a descrivere quella grande guerra orenda come deliziosa. Un guerrafondaio, dunque, puro e semplice? Non credo. Almeno per il Churchill più maturo degli anni 30 e 40. Lui poi aveva visto, dopo i 15, la fronte occidentale durante la guerra come combattente anche e si è resa conto dei terribili costi della guerra. Nella sua complessa e contraddittoria personalità, che aveva anche tratti perfino infantili, spiccono però l'umanità, una capacità di empatia, una pronta simpatia per le vittime dei genocidi, come gli ebrei e gli armeni. Non voleva, quindi, la guerra, ma indubbiamente continuava a trovarla affascinante. La credibilità di Churchill come leader di guerra nel 1940 derivava, come è ben noto, non soltanto dall'interesse per la guerra, ma soprattutto dalla sua opposizione verso la politica dell'appeasement, verso Hitler e la Germania nazista. Ha capito presto la natura unicamente pericolosa ed aggressiva del regime nazista. La notte dei lunghi coltelli in cui Hitler fece sterminare i suoi stessi subordinati, i capi delle SA, delle Sturmabteilung, e anche altri personaggi, una vicenda ben nota, Umberto Orsini, perché soggetto del film famoso di Visconti, La caduta degli dèi. Ebbene, questo avvenimento in particolare colpi molto Churchill, come una rivelazione della vera natura del regime nazista, della sua brutalità e assenza di ogni scrupolo. però è necessario precisare che non era contrario allora a possibili concessioni o a qualche forma di accordo con la Germania nazista, evidentemente con l'unico scopo rievitare la guerra, ma nell'assenza di un accordo, accordo politico, disse che permettere il riarmo della Germania senza reagire equivaleva a rendere la guerra invece inevitabile. La politica dell'appeasement è spesso identificata con la figura di Neville Chamberlain, il primo ministro che firmò l'accordo di Monaco nel 1938, di cui parleremo tra poco, con la famigerata dichiarazione che lui aveva fatto, Chamberlain, che aveva riportato la pace per il nostro tempo. Churchill non aveva di sicuro una grande stima per l'allevatura politica di Chamberlain, che veniva da una grande dinastia politica, con una delle sue battute feroci disse che sarebbe stato un buon sindaco di Birmingham in un anno cattivo. Ma, negli occhi di Churchill, non di meno, Chamberlain non era il primo responsabile del disastro, dove era invece il suo predecessore, Stanley Baldwin. Perché erano gli anni tra la presa di potere di Hitler nel 1933 e l'occupazione della zona smilitarizzata della Renania nel 1936. Quelli erano gli anni, secondo Churchill, in cui sarebbe stato possibile fermare Hitler, anche senza una grande guerra. Erano quelli gli anni che, nelle parole di Churchill, erano quelli gli anni che le cavalette hanno mangiato. Veniamo, quindi, a Monaco. Certamente, nonostante qualche scusa che ha concesso a Chamberlain, Churchill considerò l'accordo di Monaco del settembre 1938 un disastro totale, sia dal punto di vista politico che morale. Allora, per Umberto Orsini, ci leggerà il discorso alla Camera dei Comuni di Churchill dell'ottobre 5 1938. Comincerò col dire la cosa più impopolare e malaccetta. Comincerò col dire quel che tutti amerebbero ignorare o dimenticare e che, tuttavia, deve essere detto apertamente. Cioè, che abbiamo subito una sconfitta totale e che la Francia ne ha subita una ancora più grave. Ci troviamo in presenza di un disastro di prima grandezza che si è rovesciato sulla Gran Bretagna e sulla Francia. Non vendiamoci gli occhi davanti a questo fatto. Si deve ormai riconoscere che tutti gli stati d'Europa orientale e centrale stipuleranno patti come meglio potranno con la trionfante potenza nazista. È stato distrutto il sistema di alleanze nell'Europa centrale su cui la Francia aveva fondato la propria sicurezza. E io non vedo che in che modo si possa ricostituirlo. La via dalla valle del Denubbio al Mar Nero, la via che conduce alla Turchia è aperta. In realtà anche se non in modo apparente tutti i paesi dell'Europa centrale tutti i paesi danubiani saranno attratti l'un dopo l'altro entro quel vasto sistema di politica di forza non soltanto forza militare ma anche economica che irradia da Berlino. E credo anche che ciò avverrà rapidamente senza ostacoli senza che si spari neppure un colpo di fucile. Io non rimprovero il nostro popolo fedele e coraggioso che è pronto a fare il proprio dovere ad ogni costo e che non ha mai vacillato durante la tensione della settimana scorsa. Non gli rimprovero il naturale spontaneo scoppio di gioia e di sollievo quando ha preso che la dura prova della guerra gli veniva risparmiata. Ma esso ha il diritto di conoscere la verità. esso il popolo deve sapere che c'è stata grave negligenza e deficienza delle nostre difese. Deve sapere che pur senza guerra abbiamo sofferto una sconfitta le cui conseguenze ci perseguiteranno per lungo tempo. Deve sapere che quando l'intero equilibrio europeo è stato turbato ci siamo trovati a una svolta paurosa della nostra storia e che per l'immediato futuro è stata pronunciata contro la democrazia e dell'Occidente la terribile sentenza. Sei stato pesato sulla bilancia e sei stato trovato di peso scarso. E non crediate che questa sia la fine. Questo è solo l'inizio del rendiconto. È il primo sorso il primo gustar del calice amaro che un anno dopo l'altro ci sarà inflitto a meno che con una suprema ripresa di sanità morale e di vigore marziale noi non risorgiamo saldi in difesa della libertà come nel tempo antico. Ebbene nella primavera del 1939 Chamberlain abbandonò la politica dell'appeasement dopo l'occupazione da parte di Hitler di Praga e portò alla fine in settembre come sappiamo portò l'Inghilterra in guerra quando Hitler ha invaso la Polonia. Però in effetti durante i sette mesi successivi alla dichiarazione della guerra i mesi che si chiamano i mesi della phony war un'espressione difficile da tradurre la guerra burla o anche se guerra crepustolo era una guerra comunque in cui in occidente succedeva poco nulla mentre invece la Germania e l'Unione Sovietica distrussero la Polonia. Neville Chamberlain si dimostrò di non essere l'uomo adatto neanche a mobilitare le forze della nazione o a prepararla psilogicamente. La sua strategia ne aveva una si basava sui tempi lunghi però e non era sufficientemente attento ai peritoli immediati. La sensazione che c'era bisogno di una guida più attiva e più energica cresceva. Poi la conquista tedesca della Norvegia e l'evidente impreparazione delle forze inglesi per affrontarla fece esplodere il dissenso nonostante il fatto che Churchill era in parte aveva qualche sicuramente qualche responsabilità. Una minoranza del partito di governo cioè i conservatori chiese le dimissioni di Chamberlain e il deputato Leo Emmer si rivolse all'opposizione laborista con la famosa frase parla per l'Inghilterra e anche loro esprimevano la loro sfiducia. Il voto di sfiducia non era formalmente perso ma reso impossibile praticamente la continuazione di Chamberlain al potere ma neanche allora Churchill era sicuro della successione. Lord Halifax il ministro degli esteri in un altro noto esponente della politica dell'appeasement in gioco di parole non si può ridurre in italiano spesso chiamato The Holy Fox la volpe sacra. Lui aveva buone possibilità di prendere la successione in quanto la maggioranza dei conservatori prima sostenitori di Chamberlain difidavano fortemente di Churchill e non è ancora del tutto chiaro perché Halifax si tirò indietro. È sicuro invece che non aveva Halifax come invece come Churchill la ferma convinzione che era venuto il suo momento. Churchill invece disse mi sentivo come se camminavo col destino e che tutta la mia vita passata era stata nient'altro che una preparazione per quest'ora e per questa sfida. Per un incredibile caso incredibile gioco della fortuna lo stesso giorno in cui Churchill diventò primo ministro le forze tedesche cominciarono la loro grande offensiva contro la Francia il Belgio e i Paesi Bassi. Quindi Churchill doveva allo stesso tempo convincere gli scettici del suo partito che era l'uomo indispensabile e fronteggiare il pericolo esterno. Non era facile neanche il primo obiettivo. Un anno fa 4 su 5 dei deputati conservatori non lo volevano nemmeno nel governo e quando si presentava la Camera dei Comuni il 13 maggio accoglievano il suo discorso con grande fredezza. Ecco il discorso che pronunciò. Venerdì scorso ho avuto da sua maestà l'incarico di formare una nuova amministrazione. il desiderio e la volontà evidenti del Parlamento e della Nazione erano che essa fosse concepita sulla più larga base possibile in modo da includere tutti i partiti sia quelli che hanno appoggiato l'ultimo governo sia quelli dell'opposizione. Ho espletato la più importante parte del compito. È stato formato un gabinetto di guerra composto di 5 membri che uniti ai liberali dell'opposizione rappresentano l'unità della Nazione. I capi dei tre partiti hanno accettato di servire o nel gabinetto o in uffici del potere esecutivo. I tre ministeri dei servizi combattenti hanno un titolare. Era necessario che si compiesse ciò in un solo giorno dati l'estreme urgenza e il rigore degli avvenimenti. Formare un'amministrazione di questa mole e di questa complessità è di per sé un'impresa seria. Ma dobbiamo ricordare che ci troviamo nello stadio preliminare di una delle più grandi battaglie della storia che siamo in azione in molti punti in Norvegia ed in Olanda che abbiamo e dobbiamo essere pronti nel Mediterraneo che la battaglia aerea è continua e che si devono compiere molti preparativi qui in patria. Spero che mi si perdonerà se data questa crisi non parlo più a lungo alla Camera oggi spero che i miei amici e colleghi e gli ex colleghi non me ne vorranno per la mancanza di cerimonia con cui è stato necessario agire. Vorrei dire alla Camera così come l'ho detto a coloro che sono entrati a far parte del Governo non posso offrirvi altro che sangue affanni sudore lacrime. abbiamo davanti a noi un'impresa di un genere estremamente gravoso abbiamo davanti a noi molti molti lunghi mesi di lotta e di sofferenza mi chiedete qual è la nostra politica vi dirò fare la guerra per mare per aria e per terra con tutta la nostra potenza e con tutta la forza che il buon Dio può darci fare la guerra contro una mostruosa tirannia una tirannia che non è mai stata sorpassata nello scuro e lungo catalogo dei delitti umani questa è la nostra politica mi chiedete qual è il nostro scopo posso rispondervi con una sola parola vittoria vittoria ad ogni costo vittoria nonostante il terrore vittoria per quanto lungo e duro possa essere il cammino per arrivarvi poiché senza vittoria non si sopravvive rendiamoci conto di ciò non si sopravviverà l'impero inglese non sopravviverà non sopravviveranno tutti quei valori rappresentati dall'impero inglese e neppure l'impulso che esso vuole recare all'ascesa dell'umanità ma assumo il mio compito con coraggio e speranza mi sento sicuro che la nostra causa non soccomberà ora mi sento autorizzato a richiedere l'aiuto di tutti e dico venite e andremo avanti con le nostre forze unite nelle prossime settimane tutto cambiò di nuovo l'avanzata rapidissima tedesca delle forze corazzate tedesche tagliò fuori la forza di spedizione britannica che insieme a una parte di un'armata francese è rimasta circondata intorno alla città al porto di Dunkirk il 26 maggio la giornata in cui si dava l'ordine di evacuare l'esercito britannico dal continente si pensava che si sarebbero salvati al massimo solo 45.000 o 50.000 uomini poco più di un decimo della forza totale e che si sarebbe perduto anche tutto il materiale bellico pesante carri armati artiglierie che naturalmente anche quello era una cosa molto grave insomma si aspettava poco meno che la distruzione totale dell'esercito regolare britannico in queste circostanze non è sorprendente che i fautori della Peasman si fettero avanti di nuovo il loro capo non era tanto Chamberlain che Churchill invece lo dò per la sua lealtà in queste circostanze ma il ministro degli esteri Halifax l'occasione era offerta dalle proposte approvate dallo stesso Churchill finalizzate ad evitare l'entrata dell'Italia nella guerra che come sappiamo è accaduto dopo il 10 giugno mentre queste offerte erano rifiutate da Mussolini l'ambasciatore italiano a Londra invece indicò che Mussolini potrebbe invece essere disposto ad agire come mediatore con Hitler come infatti aveva fatto a Monaco nel 38 con lo scopo di raggiungere una pace generale ora Halifax proponeva propose almeno di estorare questa possibilità e perché no si potrebbe dire Churchill però temeva che il negoziato sarebbe stato un piano inclinato sul cui non si sarebbe poi mai risalito il crollo totale della Francia che non era ancora accaduto avrebbe dimostrato infatti come la prospettiva della pace potrebbe disintegrare la residua forza di resistenza della nazione e poi secondo Churchill Hitler sarebbe stato soddisfatto soltanto da termini di pace che avrebbero distrutto l'indipendenza e l'integrità della Gran Bretagna nell'ultima settimana di maggio una settimana estremamente drammatica mentre prevalevano ancora queste previsioni molto pessimistiche sull'esito dell'evacuazione da Dunkirk Churchill impose il suo punto di vista solo dopo una serie di riunioni estremamente tese del gabinetto consiglio di duella il war cabinet consiglio ristretto in queste riunioni Churchill dimostrò che possedeva non soltanto grande carisma e abilità retorica ma anche una grande capacità di argomentazione ora il cosiddetto miracolo di Dunkirk salvo un numero di truppe molto superiore al previsto circa 350.000 credo però Churchill di nuovo capì che minimizzare il disastro che pur sempre rappresentava l'evacuazione che era comunque successo sarebbe stato assolutamente consoproducente mai sottovalutare le difficoltà e le sconfitte questo era uno dei massimi segreti del successo di Churchill il modo in cui guadagnò una straordinaria fiducia presso il pubblico noto però che in questo momento il crollo totale della resistenza della Francia non era ancora previsto invece molto importante è la frase finale che reciterà Umberto Orsini in cui esprime la fiducia che il nuovo mondo cioè l'America avrebbe alla fine prestato le sue forze enormi ad aiutare nell'arrivazione del continente europeo perché in quel momento mentre l'Unione Sovietica era neutrale più filo teresco che filo inglese devo dire la speranza di una vittoria finale poteva concepirsi solo in questa prospettiva e infatti i grandi discorsi di Churchill non avevano soltanto lo scopo di unire la nazione e di mobilitare tutte le sue forze per la difesa del territorio ma anche di convincere all'opinione pubblica americana il presidente Roosevelt che la Gran Bretagna avrebbe combattuto fino alla fine una cosa su cui Roosevelt stesso era allora molto scettico il discorso più uno dei discorsi più famosi di Churchill che sottolinea appunto sì l'enorme responsabilità del compito che gli inglesi affrontavano in seno a questa liberazione vi fu una vittoria che va notata ed essa fu ottenuta dalla RAF molti dei nostri soldati che tornavano non hanno visto la RAF al lavoro ma soltanto i borbandieri che sfuggivano ai suoi attacchi protettivi essi hanno sottovalutato i risultati della RAF ne ho sentito parlare molto ed ecco perché esco di careggiata per parlarvene voglio parlarvene più particolarmente voglio pagare il mio tributo a questi giovani avviatori il grande esercito francese è stato in gran parte respinto e disgregato dall'attacco di poche migliaia di veicoli corazzati non potrebbe cadere che la causa della civiltà sia difesa dall'abilità e dalla devozione di poche migliaia di aviatori credo che mai nel mondo intero in tutta la storia della guerra la gioventù abbia avuto una simile opportunità i cavalieri della tavola rotonda i crociati tutti scompaiono nel passato sono non solo distanti ma prosaici questi giovani che ogni mattina montano la guardia al loro paese natio e a tutto ciò che noi rappresentiamo tenendo nelle mani questi strumenti di una potenza colossale di cui si può dire ogni mattina ha prodotto una nobile possibilità ed ogni possibilità ha prodotto un nobile cavaliere questi giovani meritano la nostra gratitudine come pure tutti quei valorosi che in tanti modi e in tante occasioni sono pronti e continueranno ad essere pronti a dare la vita a tutto ciò che posseggono per il loro paese nativo rivenendo ancora una volta e in modo più generale alla questione dell'invasione vorrei osservare che non vi è mai stato un periodo durante questi lunghi secoli nel quale avremmo potuto dare il nostro popolo una garanzia assoluta contro l'invasione personalmente sono pieno di fiducia che se tutti compiranno il loro dovere se non si trascurerà nulla se si faranno i migliori accordi come si sta facendo saremo ancora una volta in grado di difendere la nostra isola di sormontare la tempesta della guerra di sopravvivere alla minaccia della tirannia per anni se necessario da soli se necessario in ogni modo è quel che stiamo cercando di fare questa è la risoluzione del governo di sua maestà e ognuno dei suoi membri questa è la volontà del Parlamento e della nazione l'impero britannico e la Repubblica francese uniti per la loro causa difenderanno fino alla morte il loro suolo nativo aiutandosi vicendevolmente al limite della loro forza perfino se grandi parti dell'Europa e molti vecchi e celebri stati sono caduti o dovessero cadere sotto le grinfie della Gestapo e sotto l'odioso apparato della dominazione nazista noi non ci scoraggeremo né ci lasceremo abbattere continueremo fino alla fine ci batteremo in Francia ci batteremo sui mari e sugli oceoni ci batteremo con sempre maggior fiducia e con maggior forza nel cielo ci batteremo sulle spiagge ci batteremo sui terreni di sbarco ci batteremo nei campi e nelle strade ci batteremo sulle colline non ci arrenderemo mai perfino se quest'isola o gran parte di essa dovesse essere soggiogata o morire di fame ciò che non voglio credere neppure per un momento il nostro impero al di là di mari armato e guardato dalla flotta inglese continuerebbe la lotta fino a quando addio piacente il nuovo mondo interverrà con tutta la sua forza e la sua potenza per salvare e liberare il vecchio mondo farò un commento estremamente breve perché c'è un breve intervallo di tempo tra questo famoso discorso e il prossimo discorso che leggerà Umberto Orsini vorrei sottolineare forse un punto che uno dei colpi di genio di Churchill secondo me era di presentare la guerra sembra in lo stesso tempo questa particolare guerra seconda guerra mondiale come da una parte la guerra di pochi per rispetto alla prima guerra che è una guerra di grandi masse di fanti che si combattavano e si combattavano e si incè allora con lo sviluppo della tecnologia gruppi relativamente piccoli di uomini soprattutto gli aviatori ma anche qualche volta i leader delle truppe corazzate potevano avere un'influenza enorme e rapido sul destino quindi c'era questo elogio dei pochi famoso elogio dei pochi ma i così tanti hanno avuto tanto a così pochi un'altra famosa frase di Churchill ora questa considerazione poteva sembrare elitaria ma dall'altro lato Churchill ha notato nello stesso tempo che mai prima la guerra era stata così totale mai prima aveva coinvolto l'intera popolazione civile e in particolare in modo molto diretto attraverso i bombardamenti aerei era veramente un corpo di genio perché riuscì di trasformare questa è la realtà dei mesi che sono venuti dopo i mesi del blitz aereo tedesco in una ragione per sottolineare il vantaggio della democrazia sul totetarismo perché disse in realtà noi siamo più uniti di loro perché la nostra adesione è libera e non coatta in più la nostra tolleranza della varietà ci rende più fessibili e più capaci di innovare e in questo contesto Churchill fa un riferimento anche alla persecuzione degli ebrei che ha portato un colpo decisivo all'eccellenza della scienza tedesca ora nel prossimo discorso il discorso del 1800 giugno che alla Camera dei Comuni che era poi anche trasmessa alla radio di nuovo ha insistito soprattutto sull'enorme responsabilità storica che la Gran Bretagna affrontò affrontava in quel momento e al significato universale della lotta e con questo anche evidentemente aveva lo scopo anche di sussitare anche di più l'orgoglio nazionale io non mi faccio illusioni sulla gravità della prova che ci attende ma sono convinto che i nostri compatrioti mostreranno di esserne all'altezza e sapranno farvi fronte e sopportarla tenacemente nonostante tutto molto dipenderà da questo ogni uomo e ogni donna avranno l'opportunità di mostrare le più nobili qualità della razza e prestare il più alto servigio alla propria causa sarà d'incoraggiamento per noi tutti in questo momento quali che siano la nostra sfera d'azione la nostra condizione il nostro lavoro e i nostri doveri ricordare i versi famosi nulla egli fece di volgare o basso muovendo al grande memorando passo non sappiamo ancora quel che cadrà in Francia e se la resistenza francese continuerà nella Francia stessa o nell'impero francese d'oltremare ma comunque vadano le cose in Francia noi di quest'isola e dell'impero britannico non perderemo mai il nostro sentimento di cameratismo per il popolo francese e se anche siamo destinati a sopportare quel che esso ha sofferto emuleremo il loro coraggio e condivideremo i frutti e la libertà sarà restituita a tutti non riduciamo nessuna delle nostre giuste domande non cediamo di un pollice cechi polacchi norvegesi olandesi belgi hanno fatto causa comune con noi per tutti loro vi sarà giustizia quel che il generale Weigand chiamò la battaglia di Francia è finita io mi aspetto che la battaglia della Gran Bretagna stia per cominciare da questa battaglia dipende la sopravvivenza della civiltà cristiana da essa dipendono la vita della Gran Bretagna e la ininterrotta continuità delle nostre istituzioni e del nostro impero tutta la furia e la potenza del nemico dovranno ben presto rovesciarsi su di noi Hitler sa che dovrà spezzarci in quest'isola o perdere la guerra se noi sapremo tenergli testa tutta l'Europa potrà un giorno essere libera e la vita dell'umanità muoverà verso vasti luminosi orizzonti ma se noi verremo meno allora tutto il mondo gli Stati Uniti compresi e compreso tutto quello che abbiamo conosciuto ed amato sprofonderà nell'abisso di un nuovo medioevo reso più sinistro e forse più lungo dalla luce di una scienza pervertita innalziamoci quindi all'altezza dei nostri doveri e comportiamoci in tal maniera che pure se l'impero britannico e la unione dei popoli che esso rappresenta dureranno mille anni gli uomini possono ancora dire quella fu la loro grande ora forse il più famoso di tutti i discorsi di Churchill ora farò un commento intercalare molto breve per i temi del prossimo discorso che è del 20 agosto 1940 quando era già cominciato il blitz aereo tedesco in un momento critico della battaglia cosiddetta battaglia di Bretagna della Gran Bretagna i temi sono quelli che ho già toccato credo l'enorme responsabilità storica della Gran Bretagna verso tutto il mondo diciamo e dall'altra parte l'unione auspicata con gli Stati Uniti noto soltanto che per la prima volta in questo discorso del 20 agosto parla anche con un occhio alla fine della guerra al dopo guerra ricordiamo per capire l'audacia di questo discorso che gli Stati Uniti restavano neutrali per altri 18 mesi dopo questo discorso però bisogna dire che già davano cominciavano a dare durante questo periodo aiuti preziosi alla Gran Bretagna sia di natura economica sia anche direttamente dell'invio di articolo militare che dopo lo sconfitto di Dunkirk Gran Bretagna ne aveva un enorme bisogno quindi attraverso il Landless Agreement nonostante questo era sicuramente in questo momento una affermazione ardita che questa associazione tra gli Stati Uniti e la Gran Bretagna avrebbe rappresentato come dire il futuro il diritto di guidare il corso della storia del mondo è il premio più nobile della vittoria stiamo tuttora affaticando per raggiungere la vetta che non intravediamo nemmeno non possiamo immaginare quale paesaggio scorgeremo sotto i nostri piedi una volta raggiunto il punto più alto né in quale condizione sarà in quel giorno tanto atteso davanti a noi ora si presenta un compito più pratico più semplice eppure più arduo io spero e prego con tutto il cuore che la vittoria non ci colga indegni se dopo tante fatiche e tribolazioni essa ci sarà concessa questo è il nostro compito vi è tuttavia una prospettiva davanti a noi che si presenta un po' più chiaramente il principio di un'associazione di interessi per raggiungere obiettivi condivisi tra Gran Bretagna e Stati Uniti fu riconosciuto già prima della guerra senza dubbio questo processo significa che le due grandi organizzazioni dei popoli di lingua inglese l'impero britannico e gli Stati Uniti saranno sempre in qualche modo coinvolti insieme in diversi affari con beneficio reciproco e generale è un movimento che non si può fermare come il Mississippi continua a scorrere lasciamolo scorrere lasciamolo scorrere pieno inesorabile irresistibile benigno verso orizzonti grandiosi e giorni migliori sono dei più belli pezzi direi della retorica turchiliana questa conclusione di questo discorso ora di nuovo un commento molto breve passiamo alla fine mi sembra giusto concludere almeno su questa nota con il discorso quasi cinque anni dopo il discorso del 8 maggio 1945 il discorso per celebrare la vittoria in Europa c'era ancora la guerra con il Giappone ma in Europa la Germania si era arresa mi sembra non necessario fare molti commenti naturalmente c'è molto orgoglio patriottico orgoglio del popolo britannico in questo discorso io però richiamerei attenzione soprattutto forse sulla paragrafo sui passaggi ultimi di questo discorso che secondo me invece hanno un valore universale Dio vi benedica tutti questa è la vostra vittoria è la vittoria della causa della libertà ovunque nel mondo in tutta la nostra lunga storia mai abbiamo visto una giornata gloriosa come questa ognuno di voi uomo o donna ha fatto del suo meglio tutti si sono sforzati a dare il meglio di sé negli anni protratti di questa guerra né i pericoli né gli attacchi feroci del nemico hanno in alcun modo indebolito la determinazione e la volontà di indipendenza della nazione britannica Dio vi benedica a tutti cari miei amici questa è la vostra grande ora non si tratta della vittoria di un qualche partito né di una particolare classe sociale siamo davanti alla vittoria della grande nazione britannica nel suo insieme eravamo noi i primi in questa antica isola a tirare fuori la spada davanti alla minaccia della tirannia in seguito restammo soli contro la più tremenda potenza militare mai vista nella storia soli per un intero anno qualcuno ha chiesto la resa ci siamo forse abbandonati allo scoramento si spensero le luci e ci cattero addosso le bombe ma non ci fu uomo donna e bambino in questo paese che abbia pensato per un attimo di abbandonare la lotta londra ha mostrato la sua capacità di resistenza e così dopo lunghi mesi siamo tornati lasciando dietro la morte e l'inferno mentre tutto il mondo stava lì fermo a guardarci meravigliandosi quando mai verrà meno la reputazione e la fiducia di questa generazione di donne e di uomini inglesi io vi dico che nei lunghi anni a venire i popoli ovunque nel mondo non solo noi di quest'isola ascoltando la voglia di libertà nei loro cuori guarderanno indietro guarderanno a noi a quello che abbiamo realizzato e si diranno mai cedere alla disperazione mai arrendersi davanti alla violenza e alla tirannia sempre avanti fino alla morte se necessario ma pur sempre indomiti finalmente siamo emersi da questa lotta mortale ora un nemico tra i più terribili è stato gettato per terra e attende il nostro giudizio e la nostra misericordia dopo le parole splendide di Winston Churchill recitate scusi la commozione in modo splendido da Umberto Orsini grazie 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 nonostante ciò sarebbe sarà una caduta di tono inevitabile una una cosa sì anticlimax vorrei aggiungere qualche brevissima riflessione sul rapporto di Churchill con la democrazia lui credeva e so qualcuno potrebbe chiedere ma non era Churchill un aristocratico un imperialista come poteva allora essere un democratico sincero spero che i discorsi che abbiamo riportato abbiano in gran parte risposto a questa domanda aggiungerei soltanto il suo famoso commento sintetito la democrazia è la peggiore forma di governo possibile salvo tutte le altre direi che il nocciolo della riflessione che dovremmo fare sulla vicenda di Churchill della guerra riguarda il rapporto tra democrazia e patriotismo il nostro grande scrittore George Orwell certamente non aveva molta nessuna simpatia per Churchill all'inizio Orwell era negli anni trenta sia anticonservatore sia antiimperialista guardava Churchill sicuramente come una figura più tipica dell'imperialismo male di animo prima della guerra Orwell diventò anche molto ostile al pacifismo di una parte della sinistra di fronte alla minaccia fascista e affermava in un modo praticamente poco accetto agli interattuali che se la Gran Bretagna sarebbe alla fine riuscita a resistere al fascismo non sarebbe stata grazie a nessuna ideologia ma al patriotismo e alla particolare concezione della nazione legate per esempio a idee elementari di giustizia il famoso intraducibile per play inglese e al rispetto della legge ma anche alle ridici in territori e costumi particolari che si voleva difendere questo patriotismo era una forza emotiva più che razionale evidente insisteva Joe Orwell insisteva anche molto sulla distinzione tra patriotismo e nazionalismo quest'ultimo invece era nettamente da condannare in quanto significava la convinzione che la superiorità della nostra nazione sugli altri giustificava il disprezzo per le altre nazioni e quindi la reazione dei diritti e abbiamo visto come Churchill lo stesso tempo che sempre cerca di suscitare al massimo l'orgoglio inglese non dimentica mai le altre nazioni non dimentica mai che per lui la Gran Bretagna combatte anche per le nazioni oppresse occupate per tutte le altre nazioni in questo stato giù giù secondo me poi incontra Churchill idealmente in un particolare che secondo me è abbastanza decisivo cioè che ambe due capivano che parlare in modo chiaro e preciso non era soltanto un mezzo per raggiungere il pubblico ma un valore democratico un valore democratico della massima importanza purché naturalmente era al servizio della verità invece il linguaggio oscuro il gergo politico e burocratico erano nemici della vera democrazia perché erano nemici della comprensione della verità e di capire la verità e poi sia Orwell che Churchill odiavano le frasi fatte che spesso evitano il bisogno di parlare e che comunque privano il discorso di forza emotiva e la grande facoltà di invenzione che Churchill possedeva nutrita dalla sua vasta cultura storica soprattutto lo rendeva capace di parlare alla mente ma soprattutto al cuore del suo pubblico grazie 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 se volete cogliere l'occasione di chiedere qualcosa al professore abbiamo un'opportunità in genere calo un silenzio lo so ma magari una voce chiama via c'è qualcuno alla fine alla fine Churchill cioè rimprovera di essersi incontrato con il popolo non ha premiato sufficienza no è vero ed è una cosa importante non ho parlato perché è tutto un altro distorso molto complicato sulla condotto su cui anche c'erano le ombre condotto il Churchill guerra ma penso che la ragione era soprattutto non è esattamente la colpa anche se ha condotto una campagna elettorale devo dire brutta con accuse contro i suoi ex compagni del partito laborista ex compagni al governo che erano un po' assurde di voler fare una specie di essere pericolosi sotto l'aspetto della libertà eccetera però direi che la ragione di questa ingratitudine come era spesso vista era molto semplice che il popolo britannico vuole una nuova anche i distorsi church in qualche modo aiutarono a suscitare quest'idea dell'unità nazionale ma l'unità nazionale che non doveva durare soltanto per lo spazio della guerra ma doveva proseguire dopo guerra e che per questa unità nazionale era necessario invece un forte cambiamento sociale un forte avanzamento della classe operai dei diritti all'istituzione infatti la politica interna durante la guerra è stata lasciata in gran parte ai ministri laboristi e per questo il popolo tra cui notevolmente i soldati che combattevano la guerra che votavano contro churchill interessante o per i laboristi forse è più giusto dire in modo anche più forte del popolo civile volevano il cambiamento e quindi churchill era sì licenziato una grande sorpresa di molti bene è una buona domanda sì una domanda buonissima naturalmente i rapporti erano spesso molto burastosi churchill famoso disse che una volta chiedi tutte le croci che devo sopportare il più pesante è la croce di lorena quella di the doll ma questa è solo una parte della storia di nuovo devo dire che bisogna riconoscere un grandissimo merito a churchill cioè che lui ha riconosciuto l'importanza di the doll nel 1940 quando veramente the doll aveva pochissimo nessuna forza organizzativa dietro di lui e pochissimo neanche tra quelli che erano esoli contrari al regime filofascista di Vichy neanche tra loro c'era un accordo generale che the doll sarebbe stato il leader di loro l'ideale anzi quindi churchill aveva l'intuito di percepire in the doll l'uomo che avrebbe cappeggiato con più successo le forze della resistenza francese di aver sempre insomma caldeggiato l'idea di questa Francia libera cappeggiata dei loro e poi devo dire che alla fine della guerra insomma a Parigi si è visto insomma che quando tutti i disaccordi erano finiti una certa amicizia una certa stima reciproca indubbiamente c'era buonasera io sarei curiosa di sapere la sua posizione su un argomento secondo lei la Germania sta commettendo degli errori analoghi rispetto a quelli che ha fatto nel passato nel suo comportamento nei confronti della Grecia oddio no devo dire che capisco la domanda perché mi ricordo di un questo saputo per esempio dal mio padre che partecipava di un particolare circostanza quella che era veramente drammatica che più che gli altri paesi in Europa salvo forse l'Olanda nell'ultima guerra la politica tedesca nella Grecia oltre altre nefandezze come l'esterminio degli ebrei soprattutto veramente nel primo anno primo inverno più o meno ha ridotto tutta la Grecia alla fame e c'era un dibattito nel nel consiglio dei ministri nel gabinetto inglese perché la politica inglese naturalmente no non abbiamo la responsabilità di 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 spedire il cibo alle ai paesi occupati dai nazisti aspetto a loro come occupanti di farlo ma dall'altra parte c'erano quelli compreso il mio padre dicevano no ma non possiamo lasciare affamare tutto un popolo quindi alla fine un po' di aiuto forse insufficiente l'hanno concesso anche alla Grecia occupata allora quindi non mi piace l'idea che la Germania potrebbe entri meno di un secolo contribuire ad affamare di nuovo i Greci dall'altra parte bisogna distinguere naturalmente tra la forza economica e la forza brutale militare riconoscere che molto nella come dire nelle condizioni di Greci ahimè è colpa questa volta dei Greci stessi del fatto che per anni hanno i governi non naturalmente di nuovo come certo bisogna sinistra tra i Greci come popolo e la classe politica greca che invece in parte ha deliberatamente ingannato l'Europa e quindi ha creato una situazione insostenibile da tutti i punti di vista quindi ho la massima simpatia per Tsipras francamente ma ha ereditato una situazione di cui nessuno potrebbe essere molto fiero questa è l'altra parte quindi mentre sono molto insomma contrario alla politica economica tedesca sicuramente non farei nessun confronto diretto col nazismo insomma no niente affatto se esistono dei retroscena nel rapporto tra Churchill e Mussolini io preferirei non parlare troppo dei retroscena in cui sono ancora un po' incerti lui secondo me poi si è dato si sente no dove ok si sente poi la verità è un po' incerta c'è sempre questa idea di un Churchill che avrebbe continuato a stimare Mussolini perché sicuramente negli anni venti lo ha visto come soprattutto come l'avversario del comunismo che c'è di Churchill era molto contrario e ha riconosciuto a molti meriti a Mussolini però almeno dal già dal 1933 quando Hitler viene al potere sicuramente dopo l'attacco all'Etiopia di Mussolini nel 1935 l'idea che quest'uomo è un pericolo per la democrazia europea e certamente contava molto per Churchill anche il fatto che era un pericolo per la supremazia inglese non facciamo una questione solo di ideali per la posizione inglese nel Mediterraneo e nell'Africa secondo me dopo quel quel momento la simpatia di Churchill per Mussolini non conta molto invece come ho già detto già accennato a questo complesso soggetto durante il mio breve commento nel 1940 la situazione l'Inditerra è disperata la situazione del Mediterraneo è molto critica non si sa cosa faranno i francesi quindi cerca con molti mezzi tra cui un appello a Roosevelt di farsi appunto mediatore con Mussolini di evitare l'entrata di Mussolini in guerra l'entrata dell'Italia in guerra poi però non bisogna mai dimenticare il grande discorso che Churchill ha fatto sull'entrata dell'Italia in guerra un discorso che devo dire ha condotto a forse come dire analisi storiografici e sbagliate ma Churchill naturalmente non faceva in quel momento la storiografia faceva la politica e cosa ha detto ha detto l'Italia e l'Inditerra gli italiani e gli inglesi sono tradizionalmente amici eravamo alleati nell'ultima guerra la prima guerra mondiale ed eravamo amici anche prima gli inglesi in gran maggioranza erano simpatici al risorgimento insomma Garibaldi era ma tutto c'è tutta una storia di amicizia tra i due popoli invece nelle parole di Churchill l'Italia è stata portata in guerra da un uomo solo Mussolini quindi a quel momento ogni indulgenza verso il duce era chiaramente sparita anche ogni indulgenza degli italiani allora verso gli inglesi fu molto debole no? sì ma insomma una specie di anglofobia sì perché su questo bisogna fare ancora delle ricerche senza altro si diffuse soprattutto forse tra i giovani perché era un motivo fin dall'epoca delle sanzioni contro l'Etiopia sì perfido albione ma tutto il motivo del popolo dei cinque pasti non era un slogan inventato da Mussolini ma per dire noi loro che sono ricchi ci negano il nostro impero eccetera e c'era qualcosa naturalmente l'idea che la Gran Bretagna possedeva un enorme impero e che viceversa non voleva concedere una all'Inditerra si capiva che c'era un certo risentimento però soprattutto era una cosa un motivo diffuso insistentemente dalla propaganda fascista che non aveva naturalmente nessuna voce in contraria dubito però risembra che dopo il 1938 però la paura della guerra e la volontà la paura in qualche modo della Germania di Hitler troppo aggressiva diventò il sentimento dominante tra la popolazione che era nel giugno 1940 non è tanto chiaro che l'opposizione alla guerra in quel momento era la sfiducia era tanto grande come qualche volta è stata per una ragione semplice perché la propaganda fascista ma abbiamo visto anche che la situazione oggettiva suggeriva che la guerra sarebbe stata di breve durata quindi quelli che erano a favore della guerra nel giugno 1940 in Italia quelli italiani pensavano che la guerra sarebbe stata un'inizio una cosa forte una cosa breve con qualche guadagno per l'Italia prego se è possibile fare ancora una domanda mi piacerebbe sapere abbiamo ascoltato questi bellissimi discorsi molto emozionanti e anche retoricamente perfetti secondo lei quanta parte hanno avuto queste parole sulla vittoria dell'Inghilterra perché anche Hitler faceva dei grandi discorsi se vogliamo dal suo punto di vista e cosa alla fine l'Inghilterra la Francia hanno vinto e la Germania ha perso ma è stato un insieme di maggiori forze belliche e anche di stimolo verso la libertà oppure è stata più una cosa tecnica ecco beh è una domanda interessante giusta molto complessa forse comincerei dalla fine di quello che ha detto dicendo naturalmente quando si parla della vittoria di tutto lo sforgimento della guerra non si può dire che le parole di Churchill sono decisive e questo questo sarebbe dire troppo come lui stesso ha riconosciuto era fra l'altro soprattutto la forza degli Stati Uniti anche dell'Unione Sovietica che è stata decisiva nel vincere la guerra certamente non solo o neanche principalmente la forza dell'Inditerra o tantomeno della Francia sconfitta però secondo me il punto è che veramente c'è un momento in cui i fatti oggettivi anche i sentimenti di gran parte della classe dirigente forse non sappiamo abbastanza quello anche di una parte del popolo devono dire ebbè la sconfitta c'è stata non possiamo resistere a questa enorme potenza non vale la pena di farlo perché il costo sarebbe troppo alto ma semplicemente forse che sarebbe stato comunque impossibile per esempio Churchill ha anche messo a dura prova l'Inditerra resistenza inglese non soltanto la minaccia dell'invasione il bombardamento aereo ma anche più tardi attraverso il blocco navale la distruzione del naviglio inglese fatto dai sottomarini quindi Churchill secondo me in questo momento nel 1940 maggio per essere preciso maggio giugno 1940 lui suscita un enorme risveglio una forza unita della resistenza poi c'era l'idea appunto che prima le forze anche quelli patrioti anti-iteriani sentivano che la nazione era non era la guerra mancava di guida per esempio una bellissima frase nuovo di Orwell insomma sembrava di esprimere l'assentimento di molti che l'Inditerra è come una famiglia con i membri più tretini alla guida e Churchill ha suscitato questo nuovo clima di energia ha fatto moltissimi errori anche militari durante la guerra questo è stato ammesso adesso dopo il 1940 però quello a mio avviso che continuava a rappresentare era uno stimolo permanente uno stimolo non soltanto alla resistenza un aiuto insomma una simpatia con le sofferenze del popolo ma anche un stimolo continuo non ammetteva mai che le classi dirigenti non insomma restassero fermi o non facevano la loro responsabilità però come influenza decisiva delle forze dei discorsi di Churchill per questo abbiamo scelto discorsi proprio quasi solo in quel periodo questo è limitato senz'altro al 1940 ma non dimentichiamo l'influenza importantissima che effettivamente aveva sull'opinione pubblica americana che rese possibile a Roosevelt l'entrata alla fine insomma o la partecipazione a una guerra non soltanto contro il Giappone ma contro la Germania bene grazie allora grazie grazie grazie